Tu, un'amica mi ha detto che adesso simpatizzi per il veganismo e già so che fai yoga e acro-yoga. Ami la bellezza e la natura, forse stai attenta a non calpestare un insetto, forse hai uno sguardo buono anche per ragni e scorpioni. Questo è molto bello, ma vorrei farti notare che quantomeno da un punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un essere vivente e sono in ansia per te. Una parola me la potresti dire o concedermi almeno lo sguardo buono che forse concedi ai ragni e agli scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno velenoso di loro e più in ansia di loro per te. Anzi, guarda, secondo me ai ragni e agli scorpioni di te non gliene fotte un cazzo.